Allora ragazzi, non si è registrato benissimo il video di prima, comunque provo a fare un'altra partita, vediamo se riusciamo a beccare una vittoria o un baul Abbiamo mille, una screen del tesoro diciamo meglio Abbiamo mille monete, non possiamo potenziare nulla Vabbè, andiamo a fare una battaglietta, vediamo cosa ci esce Mettiamo la multica, non c'è niente Allora livello 8 e sono livello 7, da una vita praticamente che sono livello 7 Vabbè, intanto posizioniamo questo E lei ha posizionato quello, vabbè gli metto pure gli arcieri Vabbè, ce la siamo cavata tutto sommato In modo da aver subito veramente troppi danni Quindi lui ha la streghetta C'è il cavaliere che trotta verso la nostra torre Vabbè Noi abbiamo carte un po' così Ma comunque, sai, sto deck Non è che sta funzionando in modo malvagio Anzi, sta funzionando piuttosto decentemente Vabbè, questo li togliamo così Ah, ce l'ha eliminato tutto praticamente Bravo, è una battaglia comunque per ora al momento pari Nel momento Non ce n'è vera, è proprio supremazia Possiamo dire Anche sugli presumo che si sta aspettando per caricarsi il mana Ne attacchiamo Stolta abbiamo fatto una buona scelta invece Dai, l'ha presa, l'ha presa un po' Dai, dobbiamo pareggiare adesso No, porca puttana No, non riusciamo neanche a pareggiare i conti Dai, pareggiato, pareggiato Andiamo, andiamo, andiamo Wow, grandissima vittoria Bellissima sta partita Vabbè, ci siamo presi Ah, super baule magico Buono, se pensi che sia buono Vabbè ragazzi Grazie mille Se vi è piaciuto 10 euro per un super baule magico Un secchio di gemma Un secchio d'oro Ah, ma Valore per 4 Puoi anche Rimanere là dove sei al momento Comunque ragazzi Grazie a tutti Se vi è piaciuto ovviamente Lasciate un like Un video e basta Ciao, ciao